Ormai è noto, dal prossimo 14 ottobre il traforo del Gran Sasso sarà senso unico alternato in galleria per le indagini geognostiche per la messa in sicurezza. Durata 45 giorni, sondaggi che saranno eseguiti una canna per volta per la quale sarà disposta la chiusura. Strada dei Parchi ha spiegato come cambierà la viabilità. Dalle 10 di lunedì il transito nella tratta a Sergi San Gabriele Colledare, in entrambe le direzioni, sarà senso unico alternato, regolato con semaforo con la corsia libera per i mezzi di assistenza e soccorso. Il semaforo prevede 25 minuti di rosso per ogni direzione. Ci saranno mezzi dell'azienda ad aprire e chiudere la carovana. Parallelamente la durata del verde verrà modulata in modo dinamico, privilegiando il senso di marcia con più traffico. Ci saranno mezzi antincendio e due pattuglie della stradale. Strada dei Parchi ha previsto anche delle brochure informative per gli automobilisti. Da domani intanto inizieranno tutte le operazioni preliminari dei cantieri che richiederanno chiusura anche in questo fine settimana. Domani dalle 8 alle 20 sarà disposta la chiusura della tratta Colledare a San Gabriele a Sergi per la sola carreggiata ovest in direzione Roma. I veicoli provenienti da Teramo e diretti verso Roma dovranno per forza uscire dalla 24 tramite lo svincolo di Colledare a San Gabriele. Per i mezzi invece diretti all'Aquila Roma, che provengono da Teramo-Giulianova, viene consigliato di usare l'itinerario alternativo costituito dalla carreggiata sud della 24, da percorrere in direzione Bari fino ad immettersi nella 25 in direzione Roma. Nella giornata di domenica, sempre dalle 8 alle 20, sarà disposta la chiusura della tratta all'Aquila Est Colledare a San Gabriele in direzione Teramo. In questi orari i veicoli che provengono dall'Aquila Roma e diretti verso Teramo dovranno uscire allo svincolo dell'Aquila Est con la stazione di Sergi che sarà interdetta al traffico. Per i mezzi invece diretti a Teramo, provenienti da Roma, si consiglia di percorrere la 24 fino allo svincolo di Torano, dove potranno proseguire in A25 e successivamente in A14 in direzione nord, fino allo svincolo di Giulianova per raggiungere Teramo tramite la superstrada SS80. Disaggi ci saranno inevitabilmente anche per un periodo lungo, ma sapere le informazioni prima consentirà certamente di programmare al meglio il proprio viaggio.